Un passaggio importante per quanto riguarda l'appalto rifiuti. Ieri l'Assemblea dei Sindaci ha approvato il piano e adesso? E adesso il Consiglio Comunale di Ventimiglia, che è capofila del comprensorio ponente di 18 comuni, porta nel proprio Consiglio Comunale l'approvazione del progetto definitivo e del capitolato d'appalto. Tutto questo è preliminare propedeutico, poi all'approvazione della parte tecnica del disciplinare di gara e cominciano le procedure di legge per andare all'appalto. È stato un lavoro lungo e di grande confronto fra tutti i comuni del comprensorio intermedio, ma cosa rappresenterà per questi comuni? È stato un lavoro lungo perché mettere d'accordo 18 comuni non è semplice, ma non è semplice non perché non ci sia la volontà di voler collaborare, perché ognuno ha le sue esigenze e quindi coordinare e soddisfare tutte queste esigenze rispetto all'obiettivo che deve essere di un sistema coordinato appunto e unico non è facile. Diciamo che ci abbiamo messo del tempo tra tutti, però c'è stata tanta collaborazione e tanta buona volontà, quindi io ringrazio i sindaci che hanno collaborato e perché per raggiungere questo obiettivo che è quello di raggiungere la raccolta differenziata, il limite di legge del 65% o superarla, in una zona dove invece siamo nella lista nera perché siamo, come si sa, abbastanza lontani da questa percentuale. È un obiettivo ambizioso, però crediamo di aver creato lo strumento per cui chi sarà vincitore della gara potrà avere a disposizione le risorse e ci darà i strumenti e la professionalità per conquistare questa vittoria, insomma questa meta. Qual è stata la cosa più difficile su cui mettere d'accordo 18 comuni? Beh, intanto i sistemi, perché i sistemi di raccolta diciamo dalla differenziata, grossomodo noi abbiamo tre capisaldi, porta a porta, eco-isole e raccolta di prossimità controllata. Diciamo che la costa è pressoché più urbanizzata, ricordiamo va da Ospedaletti a 20 miglia, la parte più urbanizzata appunto, questi tutti hanno scelto il porta a porta, c'è l'enclave, chiamavano così, di Camporosso che fa l'eco-isole perché l'eco-isole è un problema anche sistemarla a volte ha degli impatti anche sulla zona più urbanizzata un po' particolare. Poi c'è una parte di eco-isole e quindi tutti i comuni della costa hanno scelto anche sulla parte della collinare, diciamo, con l'eco-isole e la parte di entroterra dove i comuni sono un po' più, hanno un territorio col centro storico più definito, hanno fatto eco-isole soltanto alcuni. Quindi arrivare a questo tipo di organizzazione di mentalità rispetto alla raccolta stradale, che alcuni avevano la raccolta stradale, alcuni avevano già il porta a porta. Cioè, quindi eravamo distanti uno dall'altro, quindi arrivare a un punto tale che addirittura dobbiamo avere i sacchetti, per esempio, con codici che ci consentono di individuare il soggetto che va a mettere il sacchetto nella eco-isola partendo dallo stradario non è facile, quindi ci sarà bisogno anche di tanta collaborazione con la gente e fare tanta opera di convincimento, diciamo, su questo. Quindi diciamo che sarà anche in questi sette anni un lavoro in progressione, quindi dovremmo maturare e raggiungere un obiettivo, una base già da subito, di partenza. Però questo progetto potrà essere modificato perché magari alla fine arriveremo all'isola ecologica, tutti quanti, che è quella parte che tecnologicamente è la più avanzata. Però magari alcuni dovranno farlo in progressione, quindi durante l'appalto ci può essere alcuni comuni, per esempio Ventimiglia, potrà implementare questa cosa, potremmo passare all'eco-isola alla fine dell'appalto, però con la maturità e con la collaborazione dei cittadini. Ecco, i cittadini, questo appalto cosa rappresenterà per i cittadini? Perché ovviamente tutti parlano di costi maggiori, come inciderà appunto sul cittadino? Beh, questo dipende dalle varie amministrazioni tanto e questo è anche un altro problema di difficoltà, è stato questo, che il passaggio da un sistema di strada, raccolta di strada a quello per esempio dell'eco-isola, c'è un maggior costo e alcuni incidono, cioè hanno riflessi importanti sulla Tari, quindi sulla tariffa che verrà applicata alle singole utenze. Posso dire che per Ventimiglia noi riusciamo a fare questa cosa a Tari invariata. questo per noi è un grande risultato perché circa 15.000 abitanti, dal Nervia alla Marina San Giuseppe e passando per la parte bassa della città, circa 15.000 abitanti passeranno il porta a porta. Abbiamo 11 eco-isole e poi altre zone abbiamo la prossimità. Questo ci consente appunto di mantenere la Tari a livelli attuali. In alcuni comuni invece che avevano le tariffe invariate, non avevano fatto mai sperimentazione di porta a porta, noi per esempio invece ce l'abbiamo già da qualche anno alcune zone della città, con il porta a porta, che aveva già indotto a una tariffa maggiore. E diciamo che quei comuni hanno una differenza però non così grande perché poi già nel secondo anno, quando tu raggiungi l'obiettivo del risparmio, quindi c'è il piccolo del primo anno che è l'investimento, però già tutti i mezzi eccetera vengono ammortizzati in nove anni. rispetto a sette anni dell'appalto. E quindi diciamo che poi la tariffa si abbassa e io credo che non ci saranno. Chi ha un picco all'inizio poi si abbasserà alla fine, sempre se raggiungiamo il minimo del 65%. Noi pensiamo che se non ci sono, tra virgolette, incidenti perché queste gare, soprattutto sui rifiuti, è di conoscenza comune che a volte ci sono anche esposti, cioè che possono creare contenzioni anche in fase precedente alla gara stessa. Comunque i tempi tecnici ci dicono che noi ottobre e novembre dovremo andare alla giudicazione. Questi sono quindi i sindaci, adesso faranno la proroga perché ricordiamo che tutto il nostro comprensorio è in proroga rispetto agli appalti precedenti. Noi esprimiamo questa soddisfazione perché anche la provincia dell'Imperia il partito indianese sta pubblicando e noi se no siamo i primi che riusciamo a fare la gara traguardato alle disposizioni di legge anche per le scadenze future. Quindi speriamo, io sono un ottimista e quindi spero che i tempi siano rispettati perché le cose dovremmo averle fatte bene e quindi possono andare avanti, speriamo.